Ciao a tutti, siamo alla 801, casa di Emanuele e di Walter e adesso lo andiamo a vedere all'interno vestita questa sono io e questa è lei vestita ha fatto un bellissimo lavoro, uno staging eccezionale bellissimi anche i quadri sulle pareti questo è il formaggio, finto ecco il tavolo da pranzo con la cucina completamente rinnovata andiamo al bagno e ai quadretti questo è il bagno, non male e le due camere da letto eccola, questa è la master room con bagno e adesso andiamo a vedere lo studiolo che può essere anche usato come terza camera stanza luminosissima, piena di finestre e se vogliamo farci un aperitivo si può fare ancora in casa, tranquillamente ciao a tutti